Ciao a tutti quanti, devo dirvi tante cose. Intanto grazie per tutti i complimenti che mi fate per il disco, siete veramente straordinari e finalmente comincio a provare gioia per tutto il lavoro che io e i miei collaboratori abbiamo fatto per fare questa cosa per Natale. Come voi tutti ormai sapete c'è stato sabato scorso un taglio di una mia partecipazione a TV Talk su Rai 3, un taglio violento, oserei dire all'inizio pensavo fosse una cosa come quando c'era il nazismo, io ero andato lì a parlare del mio disco, dei bambini del Kenya e di tutta la nostra operazione benefica, perché per me è la mia ma è anche la vostra perché mi seguite in tantissimi e allora sto per difendere anche voi. Improvvisamente la mia partecipazione è stata tagliata con delle scuse finora che non ho compreso, quindi siccome non sono un violento e non uso le maniere forti di solito, loro chiedendomi scusa al telefono tramite il direttore generale Lorenza Lei che si è imbufalita per questa censura incredibile nei miei confronti ma soprattutto nei confronti di un'operazione umanitaria, mi hanno rinvitato sabato prossimo per chiedermi scusa e io voglio pensare che oltre a chiedere scusa a me dovranno chiedere scusa a voi che aspettavate il mio intervento ma soprattutto dovranno chiedere scusa al Kenya, ai bambini del Kenya e a tutte quelle persone che stanno aspettando questa diga come la manna dal cielo. A parte questo vorrò capire quali sono le motivazioni per cui loro hanno tolto la mia partecipazione dopo avermi invitato da tre settimane. Sono stato male in questi giorni perché non pensavo che succedesse a me di essere tranciato in questo modo. L'ultimo caso era successo a Dario Fo a canzonissima negli anni credo 50-60 ma lui parlava di politica, io stavo parlando di solidarietà. Trovo ancora adesso ma penso anche dopo le loro scuse troverò che la cosa è stata assurda. Il disco sta andando bene e noi vediamo come si comportano e di conseguenza io reagirò sicuramente a secondo delle cose più logiche da dire e da fare. Vi dicevo il disco sta andando bene, sto iniziando a girare un po' nei posti dove lo vendono. Purtroppo l'ubiquità non mi è consentita e quindi non posso essere dappertutto. Sarò a Milano nei primi di dicembre, vi dirò la data così quelli di Milano potranno venire. Molti di voi sono venuti a Roma, alla Feltrinelli di Roma e li ringrazio. Molti si stanno operando per spargere la voce. Insomma siamo ventesimi in classifica e siamo anche davanti a dei cantanti di grido e professionisti. Però dobbiamo salire, dobbiamo salire di più perché se no non ce la facciamo. Niente, voi seguitemi sempre con calma. Se non mi vedete per due o tre giorni o vedete che non vi rispondo è perché sono in giro a fare pubblicità al nostro disco Acqua di Natale. Intanto vi abbraccio e vi auguro una buona settimana. Insomma è come se rispondessi a tutti. Vi bacio, vi voglio bene. Grazie per tutte le cose meravigliose che mi scrivete. Siete fantastici. Ciao.